In questo momento di necessità l'Associazione Gli Angeli del Carro con Presidente Mariano Iacovone si unisce al Materano. Siamo a disposizione dei supermercati per fornire la spesa a domicilio in tutta la città di Matera. Abbiamo messo anche a disposizione la nostra sede a favore della Chiesa che sta preparando i pacchi di prima necessità. Per chi ha bisogno può contattare i numeri che comunque sono pubblicati sulla nostra pagina Facebook. Comunque Gli Angeli del Carro non è solo il 2 luglio ma Gli Angeli del Carro è tutto l'anno sempre presente per il città di Matera.